Sì, è vero, non si può dire che sia proprio da novellini, ma è sempre un inizio, è come cominciare un nuovo ciclo scolastico per restare nella metafora. Quindi spero che i nuovi innesti possano inserire l'entusiasmo dei nuovi e aiutare anche i più sperimentati a tenere il ritmo e a conservare sempre lo smalto che serve perché non ci si può mai abituare o accontentare di far diventare questa attività come se fosse un mestiere. È una vera e propria missione governare, servire il proprio popolo, mettere a disposizione la pubblica amministrazione dei cittadini. Se non si fa con questo spirito ci si inaridisce e si rischia anche di poi farsi travolgere dalla burocrazia o dalla stanchezza. Invece bisogna sempre mantenere forte la motivazione e l'entusiasmo e questo inizio oggi spero che sia fuoriero di questa mentalità. Realizzare un raddoppio, una velocizzazione ferroviaria, una nuova linea è una delle cose più complesse, difficili, costose e tecnicamente difficili da realizzare. Quindi questo nuovo passo nella giudicazione della gara lo accogliamo con grande sollievo, con grande gioia. Non vedo l'ora che i cantieri prendano davvero corpo, ora si procede alla progettazione esecutiva e spero al più presto all'apertura dei cantieri cominciando magari dalle opere compensative che sono le prime che vorrei i cittadini vedessero, ma ne parleremo nei prossimi giorni con RFI perché la prossima settimana RFI sarà qui in questo palazzo, Palazzo Silone, per presentare il dibattito pubblico che è già iniziato, ma l'ultima fase del dibattito pubblico invece sulla tratta precedente di questi due lotti, che è la tratta che congiunge Pescara a Chieti passando per San Giovanni di Atino. Quindi si entra nel vivo anche di quella parte di tracciato, ci confrontiamo con le amministrazioni e con i cittadini ed RFI presenterà anche le sue soluzioni progettuali a cominciare dall'attesissimo interramento di Piazza Italia, del passaggio a livello, del passaggio al centro di San Giovanni di Atino, di San Buceto. E quindi anche questo segnala che su questa opera, la Ferrovia Roma-Pescara, si sta lavorando seriamente, come mai era accaduto prima, e si raggiungerà il risultato di realizzarla.